E tanta gente anche a Lucca al concerto inaugurale del restauro dell'antico organo della chiesa di Mutigliano che fu suonato anche dal giovane Giacomo Puccini che è stato direttore del coro a Mutigliano. Sono state eseguite musiche pucciniane, organista Daniele Boccaccio, Ilaria Casai Soprano, i cori Santa Felicita di Lucca e Bruno Pizzi di Pisa. Il concerto sarà trasmesso prossimamente sulla nostra emittà con un 41enne lucchese finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Si sono aperte le porte del San Giorgio per un 41enne lucchese condannato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, residente in centro storico, già dal 2019 si era reso protagonista di atti violenti nei confronti della sua compagna, anche davanti ai figli piccoli. Comportamenti che alla fine avevano costretto la donna ad allontanare l'uomo dall'abitazione. Lui però non si era rassegnato e la sera dello scorso 28 aprile, nel tentativo di rientrare in casa, aveva aggredito nuovamente l'ex compagna, spintonandola e tirandole i capelli. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagna di Lucca lo aveva costretto a fuggire per evitare l'arresto immediato. A quel punto però sono partiti gli accertamenti e a settembre il tribunale lo ha condannato a due anni e quattro mesi di rientrare.